Ciao a tutti e benvenuti nel canale! In questo nuovo video voglio parlarvi del museo presente in Paper Mario The Origami King. Una volta che avrete salvato questo Toad a inizio avventura, sbloccherete il museo. Scopriamo insieme ogni area del museo. Il museo è suddiviso in stanze, in ogni stanza vi sono determinati contenuti. Nella prima stanza potete sbloccare in ogni regno con i Toad che avete salvato dei dipinti o delle immagini riguardanti alcuni momenti del gioco o oggetti particolari che incontrate nel corso dell'avventura. Ogni regno è suddiviso in varie pagine e come potete vedere con i Toad salvati potete sbloccare questi contenuti. Quindi è importante salvare i Toad non solo per il combattimento ma anche per questo. Nella seconda stanza invece sono presenti i Toad Origami. Nel corso dell'avventura sbloccherete diversi Toad Origami, o meglio incontrerete diversi Toad che hanno assunto la forma di Origami. Se li trovate e li colpite li aggiungete alla collezione, oltre ovviamente a salvarli. Nella terza stanza invece vi sono i collezionabili. Nel corso dell'avventura, aprendo i Forzieri, sbloccherete diverse statuette da aggiungere alla vostra collezione. Statuette di vario tipo rappresentanti oggetti, diciamo strutture, personaggi e così via dicendo. Alcune volte i Forzieri sono ben celati nello scenario e richiederanno determinate azioni per essere raggiunti. Nell'altra stanza invece vi sono i nemici che incontrerete nel corso dell'avventura. Nemici suddivisi per regno, quindi in ogni regno incontrerete diversi nemici e boss che potrete aggiungere alla vostra collezione affrontandoli e naturalmente sconfiggendoli. Non ve li mostro per non spoilerare. Poi, nell'altra stanza invece vi sono le musiche che potete sbloccare nel corso dell'avventura, quindi le colonne sonore tratte appunto dai vari momenti del gioco. Come ultima, ma di certo non meno interessante sezione del museo, riguarda la possibilità di spostarsi di regno in regno tramite i tubi. Una volta che avete raggiunto il tubo bloccato e numerato e lo avete sbloccato, potete utilizzare i vari tubi per spostarvi dal museo alle varie località del mondo di gioco. Quindi, come in questo caso, utilizzando il numero 1, sono giunto nel primo regno. E così via dicendo, nel corso dell'avventura sbloccherete diversi tubi che vi permetteranno di tornare al museo e di spostarvi in altri regni.